Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per traffico verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante. Stessa situazione in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est per chi viaggia in direzione Pisa. Sempre in A11 per chi proviene da Firenze, coda in uscita a Montecatini Terme. Arriviamo in Cipiri dove restano due chilometri di coda per lavori tra Empoli ed Empoli Est per chi viaggia verso Firenze. Regolarizzato il traffico altrove. Per il traffico urbano di Firenze possibili disagi per presenza di materiale incarreggiata in via di Scandicci. Ultima pagina per il TPL, per domani è stato programmato uno sciopero nazionale che interesserà anche Autorine Toscane e GEST. Per i bus di Autorine Toscane il servizio non sarà garantito dalle 18 alle 22 per la tramvia di Firenze possibili disservizi dalle 9.30 alle 13.30. Buon versetto in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, Città, Meroportana e Chirenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.